Ciao, sono Aurora di EvoCasa. Oggi siamo a Bussarsizio, a due passi dalla stazione. Ti faccio vedere un appartamento con un bel terrazzo e la cucina abitabile. L'appartamento è esposto su tre lati e ha anche il box. L'appartamento con un bel terrazzo e la cucina abitabile. L'appartamento con un bel terrazzo e la cucina abitabile. L'appartamento con un bel terrazzo e la cucina abitabile. L'appartamento con un bel terrazzo e la cucina abitabile. L'appartamento con un bel terrazzo e la cucina abitabile.